Un marocchino di 27 anni, abitante a Piario, è rimasto coinvolto in uno spettacolare incidente stradale, da cui è uscito praticamente indenne, avvenuto la scorsa notte intorno alle 4 e 45 lungo viale Europa, tra Clusone e le Fiorine. L'immigrato alla guida di una Golf stava scendendo da Clusone diretto verso casa, quando all'improvviso, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo della vettura, che prima è finita contro lo spigolo della recensione di una casa, poi con la parte posteriore ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, che è stato scardinato insieme alle sue fondamenta, facendolo precipitare sulla carreggiata. Quindi, dopo essere girata su se stessa, la Golf è volata nel fossato che costeggia l'ex provinciale, nel tratto tra il Bar Seltz e la stazione di servizio IP, ribaltandosi. Il rumore dell'impatto, violentissimo, ha richiamato l'attenzione del titolare di un vicino in grosso ortofrutticolo, che subito ha dato l'allarme. In pochi minuti sono arrivate sul posto un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana e l'unità mobile di rianimazione della Croce Verde di Colzate. Si pensava infatti al peggio, oltre ad una pattuglia dei carabinieri di Ponte Nossa per i rilievi. Per estrarre il 27enne dalla vettura gravemente dalleggiata, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Clusone. L'immigrato è stato poi portato per accertamenti all'ospedale Locatelli di Piario. Se l'è cavata con un grande spavento e qualche trauma non particolarmente grave. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, un colpo di sonno, una distrazione o l'alta velocità.